Terzo video di giornata ragazzi con una qualità che purtroppo non è il massimo Mi dispiace ma era l'unico modo per farvi vedere subito questo video E ci tengo veramente molto ad esprimere la mia opinione riguardante Genoa-Torino Torino che vince, decide in una rete al quarto d'ora alla fine di Bremer E Genoa assolutamente sfortunato Tiago Motta meritava quantomeno il pareggio Due sono i legni colpiti dai padroni di casa E due sono state forse le occasioni più importanti avute dal Genoa Che sono proprio queste due Anche se la partita devo dire è stata piuttosto equilibrata E l'equilibrio quasi idilliaco è stato rotto appunto al 77esimo dal colpo di testa di Bremer Comunque i due legni sono due legni diversi Prima Gudello colpisce la traversa Bel tiro ragazzi che però si va a scantare appunto contro la traversa E poi Favilli che tira molto bene diciamo ragazzi Comunque un tiro abbastanza alla sua terra Se ne va sulla destra salta il difensore del Toro Adesso mi sfugge ragazzi chi fosse esattamente Però salta il difensore del Toro Calcio a botta sicura Si comunque ci sarebbe arrivato Penso però il pallone si infrange contro il palo Molti fantallenatori magari anche erano in ansia per Belotti Che alla fine però non ha minimamente giocato Neanche andare in panchina Si è subito accomodato tranquillamente e comodamente in tribuna Il Torino per me non meritava di vincere Il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto Però alla fine ragazzi se non fai gol e se ti mangi Diciamo mangi forse non è il termine più corretto Perché sono state due occasioni sfortunate Due episodi sfortunate Però se non concreti le occasioni che hai E parlo del Genoa Alla fine il gol si sa Lo subisci e l'hanno subito Molti avevano etichettato questa sfida come la gara salvezza Ragazzi per me a definire questa sfida la gara salvezza Ce ne vuole magari il Genoa non naviga in acque sicure Però il Torino non penso retrocedere Non penso rischi seriamente di retrocedere Sicuramente sta giocando una stagione al di sotto Delle proprie possibilità E anche delle aspettative che magari giustamente I tifosi siano fatti Però dire che questa è una sfida salvezza Ragazzi mi pare veramente esagerato E mi pare alquanto insensato Alla fine ragazzi il colpo di destra di Bremer Su assist di Verdi De calcio d'angolo decide Una sfida delicata E una sfida veramente molto equilibrata Il video vi faccio qui Vi ringrazio per la visione Vi ricordo che potete lasciare Un mi piace, un commento E una iscrizione al canale Ciao a tutti